Benvenuti alla serata di Natale, nella balera della musica. Dopo ci sono i lenti. Live Surzy, batteria. Vi auguro buon Natale. Paolo Costa, basso elettrico. Vi auguro buon Natale. Sandro Debelli, Spercussioni. Vi auguro buon Natale. Fabio Valdemarin, senza voce. Vi auguro buon Natale a gesti. Luca Meneghello, vi auguro buon Natale. Chitarra elettrica è buon Natale. Alessio Navatrombone, vi auguro buon Natale. Daniele Comoglio, sassofono tenore. Vi auguro buon Natale. Io sono Daniele Moretto, vi auguro buon Natale. Grazie a tutti e arrivederci. Adesso introduciamo la prima ospite vocale. Non è facile, è parlare con questa cosa. È un po' inquietante. Stasera avremo tre cantanti stupende, tre voci magnifiche. La prima delle quali è Deborah Falanga. Che non c'è. Che c'è. Che c'è la sola? Sì. Oh. Buonasera. Dosia. What's wrong with the world today? Yeah, we're just trying to get better Show me what the leaders say Maybe we should write a letter You said, dear Mr. Man We don't understand Life of paper gets struggling But you don't lend a helping hand Imagine five five say The bank's showing her the earth Will you warm it down that way But you've been tripping since the day of your birth Who says That to kill is a sin Who's taught every single word That you people in there Who's saying That water is a precious commodity Dropped in a bag for a snake In the dead blue sea Who told me Mr. Man They're working round the clock I'm back Would you buy me a big house in the hood Cigarettes I'll send every block Who told me Mr. Man That I got Let alone I'll move out this big hole In the ozone Hey What's wrong with the world today? Things just got to get better Don't you Mr. Man What you don't understand Well maybe we should write a letter Hey What you don't understand 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti